La cucina è un'arte, primo in Italia, a rondelli e fini, la Deep House Cooking. E' a fuoco molto lento, per circa dieci minuti, shue shue, un po' di sale, un po' di pepe, la Deep House Cooking, shue shue. La cucina è un'arte, la musica è un'arte, con la cucina e la musica nascono nuovi orizzonti. La Deep House Cooking. La Cucina è un'arte, la musica nascono nuovi orizzonti. La Cucina è un'arte, la musica nascono nuovi orizzonti.